Siamo nei guai, continuiamo. Ok, abbiamo preso la nostra camera, come abbiamo visto nello scorso episodio, dopo la rapina è andata veramente, veramente male. Allora. Terno telling on. Did you believe we? They knew nothing about the job? You looked convincing, didn't you? Yeah, that's not what I asked you. Not having much of this conversation, mate. I don't know. I thought we were delivering the ball for 20% job done. I should be back out home by now soaking in the bath. Shit. What? There's no bath. Somebody must want this thing. Why has no one tried to contact us? Is there any way we can get to Jeff's phone messages? Or what about that place in Chelsea? Maybe they've tried to contact us there. Just shut up, could you? No. Ma, qui se lo aspettava, eh? Why did you do that? Because I felt like, eh? Ma bene, o'l cuore t'ener o. Ma che ti venisse lo sapevo io Ma è us Lui, interessante, Lui Oh, sì, molto compassionate Siamo in grossi guai Oh, signora Hanno ucciso Wu Ma insomma Spiega Mei, we got him killed by taking it there And we're next We should get out of the city Yeah, yeah, I agree 100% Are you crazy? Having that is going to get us killed What we're not having is what got Wu killed Hello Mr. Smith Yeah I have some people in the reception Shall I send them up? Oh, santa barbara Sarà già tardi No, no, finestra, finestra Nooo Sopra Sopra Forse peggio sopra Ho detto sopra Forse era meglio Rompere la finestra Perchè non ho rotto la finestra Perchè? Perchè? Avevo paura di far rumore Ecco perchè E adesso? Where is it? Non hai una faccia rassicurante per nulla I don't know I don't know I don't I don't know where it is We've all had a very long night We've all had a very long night If you don't come to your senses I don't know where it is I don't know where it is La vera ciotola La vera ciotola Lei fa tanto male L'ho schiacciadita We know where the ball is You and your lady friend Next door Both of you know No, non lo sappiamo Pensavamo ad averla Ma non l'abbiamo What have you done to her? So you metto your partnership with her? Si What have you done to her? Look, what the fuck is this? What have you done to her? I don't understand what the fuck you're saying to me I don't understand what the fuck you're saying to me Ball equals pain The longer you have ball, the longer you have pain Very simple mathematics Sorry Fuck Fucking hell I haven't got your fucking rice ball, okay? Fuck I don't care if you have it or your girl Oh Se mi cavano anche un dente First to tell truth Cos'è sta roba? The other Is punished The classic prisoner's dilemma Game theory first term Whatever I tell them Lives or dies On what Mei Ling tells them And vice versa If our answers are inconsistent One of us dies Oddio Non ce l'ho capito molto Sceglie 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 Dekar non si va mai lungo, ma quando è riuscita, la bobbia tirano le intestinale. Lasciano. La morte viene a noi in un'ora. Forse era meglio da lunga. Onde è la bolla? La bolla original. Posso confiarla per essere riuscita? O si mantiene quieta? O perché se si fa questo, morte. N'è la morte? Ma ma io davvero dic Zeke, non so niente... ...envevo nulla di questo, per la quattro per la borsa. Si ero in avarcia parte di una roba, non avevo un'altra possibilità. Io non so niente con questo per il mio rupo, ma cosa fare la prossima. Non c'è nulla di dire che ti posso dire che non è di névole di lungo. È solo per la tua tempo con me. That's the absolute truth Where is the original? Do we repeat? Santa Lepre, non lo so I don't know Second round, like I thought, the girl kept quiet Where? Fuck She followed my strategy If I could get this wrong, that Mayling gets one of those knives through the stomach And so do I Boh, la proteggo, non sa più cosa fare What can I tell you? Dai, ma cioè, ma se parlo cosa significa? This can only continue Where is the original? Ma non lo so Fuck you Fuck you Ma che cavolo Ma dai, ma non capisco Do I even believe that she's in there? Is she part of this? Is she part of the gang? And they think that I'm really part of the original? In collegamento questi Am I just prolonging the inevitable? Fuck Questa cosa non la capisco Do I trust her? Si Mi fido Then I'll see you in the fucking morning, mate Oh, put it on 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 Can we please speak in fucking English? I didn't say you're the only one who knows where it is I said you're the only one who can get to it It's okay Ma, ma, ma dove la trovo la ciotola? Allora, dove è stata scambiata sta ciotola? L'unica è all'asta L'unica è all'asta Si Direi di si Ma, ma, io te, guarda, cioè te, adesso ti lascio uccidere Ti lascio uccidere Ti lascio uccidere No, no, ti lascio uccidere No, no Cioè io posso andarmene e tu muori Ah, ti rendi conto? Ma dico io Le mie dita Ma dove mi son fatto tirare dentro qua Ok Ok Pa Mi fa anche il fuoco Mi fa anche il filantropo alla tv, ma pensate Ma se riuscivo a scappare, secondo me questa cosa, cioè non riuscivo a scappare Eh 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 eh, questo mi piace, questo bel pensiero C'è qualcuno che... Ah, polizia... Vabbè dai, cercheranno questi, tu evita questi Evita lì, cosa fai? Ah, buongiorno! Mantieni! Mantieni, che sennò ti arrestano quelli dietro Arbitro! No! Cosa aspettavano? Ma guarda questo! Ma guarda questo! Volume alto della musica! Ma io riesco ad abbassare il volume della musica! Ehm, guarda dov'è! Che poi dopo mi prendo i warning del copyright! Ok, proviamo a 66! Andiamo! Ma scusa, è ancora alta! Ma come si fa? Volume della musica! Tomo, 41! Vai! E... E via! Molto meglio così! Ah, ok! Quasi strozzato! E via! 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 Dan, from work? I heard he was in an accident! Is he all right? At home? No, no! He's not well! He's been taken to the hospital! He has a serious concussion! It's horrible! Ehm... I'm really sorry to hear that! Where did they take him? They took him to St. Thomas's, but they won't let me visit until the morning! St. Thomas's, thank you! I'm really sorry this happened! No worries, it's not your fault. I'm sorry though. Ma in realtà è quasi colpa nostra, abbiamo quasi strozzato. Interessante, all'ospedale. Lui ne sa qualcosa sicuro, sì. Pensate. E se prendevo il carrello? Ma. Tutti questi sa. Tutti questi ma. Ok, all'ospedale. E adesso come arriviamo su? Che non ci fanno entrare. Qua hai da capirlo. Ma pensate il destino. Ehi, ma io ti stavo aiutando, eh. Io potevo aiutarti. Ma te la stavo dando. Ma te la stavo dando. Cosa ho fatto di sbagliato? Ti spiego. Non mi credo se ho detto. Non mi credo se ho detto. Non mi credo se non. Ok. No. Ma te la stai morta per visitare la nostra. Sì, per favore. La settimana stessa. La sala 703. E se sei attaccato, non ho mai visto o ho mai sentito di te. Grazie. Ma pensate. Però credevo di averla aiutata un po' di più. Beh, gli avevo solo detto dammi 100 dollari. No, 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 no. Ma dico io. Ah. Un po' polemico con internet questo gioco. No, 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 no. What the you doing here? You remember me, right? You shouldn't be here.leş, grido. Later, na- beh! Now, you listen to me, mate. I'm a peaceful man. Ok? I do not want to hurt you. But if you try that shit again, I swear to God, the bits of you at heart are going to get a whole lot worse. Do you understand me? Do we have a deal. Oui, yes. Ah, ti faccio un po' di pressione. Vuoi sperimentare lo schiacciadite? Sì, che l'hai presa, dai, come strangolo? Beh, se non facevo niente? Ma no, forse non devo fare niente. Guarda, ti tolgo l'ossigeno, eh? Ah, ecco, va là. Ma strangolo. Ah, ma pensa te. Ecco. Ecco. Ma lo potevi dire prima? Ma che soffrega? Per le mie dita? Sì. 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 Ci stiamo dirigendo da Mr. Park. Mi raccomando con queste musiche, fatemi sempre poi un bel reclamo del copyright, anche se... Siamo quasi arrivati? No. Niente, vorrei solo parlare sopra questa musica in maniera magari di non beccare un warning, perché rompono un po', dopo mi tocca sostituire un pezzo, diciamo così, del video con una musica e copre tutto. Insomma, non è una cosa simpatica, anche se vabbè dai, tanto fa niente, ci sono i sottotitoli sotto e spero che questa musica finisca. Parlo. Mr. Quinn è in room 13. Tanto non è quella che dovrebbero aiutare. No rush. Long flight. How can I help you? I'm here to pick up an item. What lot was it? It was an item bought last night by Mr. Samuel Parr. No. No, no, non è nella mia lista. Hai la tua documentazione? Mmm... Sì. Non mi sembra. Oh, Dio. Possessi ottenere la documentazione del mondo per me, ma non potessi ottenere lì a te. Oh, per Dio. Let me prendere un altro guarda. Eh, dai che l'abbiamo messo in imbarazzo. Sì, ma siamo ben furbi. Cioè, questo è più furbo sicuramente di me. Eh, veramente. Siamo ganzi. Ne sappiamo a pacchi. Allora, passa la carta, vai su, vai giù, passa la carta. E andiamo al cavo. No. Esco. Non so cosa fare. Vieni. Vieni. E quindi cosa ho fatto? Oh, porta aperta alla Renault. Dai, imbrufolati. Sì. Bravo, 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 bravo. Ma cammini, poi? Con quella camicia fuori indietro, veramente? Bene Longfly, ma... Mmm. Computer sapientemente coperti. Nel punto giù... No. Non è vero. Si vede benissimo. Siamo nella checchè. Mr. Quinn? Mr. Quinn? Mr. Quinn, sì. Mmm. Non c'è mica creduto questo. Continuo. Ma fai in fretta prima che torni. Oh, sì. Sì. Bravo, bravo, dai, dai, dai. Ok. Durabile. Più in fretta. Sì. Sì, grazie. Cancel? Parcheggio. Coppa. Non funziona qui. Sì. 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 Che rischio. Sì. Grazie. Ci ha creduto. Ah, ma questo parcheggio, io pensavo uno di quelli sotto proprio. ma va là che non ci vede nessuno, guarda cosa fa questo. Vai! Sì. Beh, vai e si è nascosto. Ma no, va, va, va. Sì, va bene. Una luce così dentro c'è qua. Va bene, dai, insomma, sennò sarebbe stato troppo tutto il buio. Dai che lo trovi, dai che lo trovi. Vieni. Vai piano che ti sentono. Vai piano. Vai piano. Sì. Ma si apre sta scatola cinese, sì. Così facile, eh? No, ma è quella vera questa. Adesso rompila, eh? Mi raccomando. È molto f***o di money. Sì. Ma mettila dentro nel suo cellulofanino. Perfetto il cellulare. Mailing. Non rispondere. Non mi raccomando. Non mi raccomando mai. Cosa è questo? Don't bring it here. Ti chiamo. Lo so che non dovevo. Una cosa strana questa che mi stia chiamando. Non portarla qui, mi ha detto. Yeah, what's going on? Have you got the bomb? Yeah, I've got it all right. I'm on my way to you now. Listen to me. Don't bring it here. What are you talking about? They're going to kill you. They're going to do that anyway. The choice, the choice still think we're responsible for this. We need to prove to them that this was Pa's plan right from the start. What? Go to Pa. We need him to admit. No. 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 questo. Ok, sapete che vi dico? Grazie per averci scelto e la storia con Mr. Parr ce la facciamo il prossimo episodio. Ciao a tutti, mettete mi piace e alla prossima!